Il comune di Caltanissetta ha individuato un'area nella zona industriale di Via Calderaro per lo stoccaggio e rifornimento di fieno destinato agli allevatori beneficiari del bonus fieno. L'iniziativa, voluta dal presidente della regione Renato Schifani, permetterà agli allevatori di ricevere il fieno direttamente a Caltanissetta senza doversi recare in altre località. L'assessore Guido del Popolo ha sottolineato l'importanza di rendere più agevole il processo per gli allevatori locali. Grazie a tutti.